Carro Assessore, sono veramente felice di aver trovato questo posto. No, grazie. Pensi che mi avevano consigliato la cura del verme solitario. E che avrei fatto alla fine della callas? Si ricorda come sarà ridotta? Ah, no, per carità, le devi stare attenta alle corde vocale. Ci sta anche un monsignore. Ah, sì. Buongiorno. Mi sa l'averlo visto in Vaticano. Non ci voglio stare. Non mi far farlo. E mi farò scopo tutta questa gente. Fai il bravo ragazzo, per favore. Buongiorno. Lo hai capito? Smettila. I primi due, prego. Signorina, avevo chiesto la cortesia di farmi trovare in camera il libro della messa in latino. Invece c'era il messale di Paolo VI. Me lo dice come mai. Scusi, ne parliamo dopo. Prego. Se si azzardano a farmi le iniezioni, giuro che li prendo al calcio a mozzichi. T'avverto. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Grazie. Lei è il signor? Turri. Favorisca le analisi, per cortesia. Perché ha deciso di perdere sette chili in sette giorni? Beh, sai, io sono in politica. Sono assessore comunale all'alimentazione, al comune di Viterbo. All'alimentazione, capisce? Sì, quelle sono le caricature che mi fanno. Sono perseguitato, dottore, non ce la faccio più. Poi, sai, adesso ci sono le elezioni politiche. Io vorrei avere un look più dinamico, mi spiego. Lei fuma troppo? No, dottore, non ho mai fumato in vita mia. E guardi che forse un po' al contrario. Ah. Ah, sì, scusi. Ne vedo migliaia al giorno, sa, qui. Eh, capisco, capisco, sì. Mi confondo. Ah, dottore, io non entro più nell'ascensore. Nemmeno con le borse piene della spesa. Siccome sto al quarto piano e mi è diventato un tribolo, qui i casi sono due. O allargano l'ascensore o mi stringo io. Siccome questo è un condominio dei vidocchiosi, apposta mi sono decisa di venire qua. Così il loro sabio non si accoccia. Signora, io la faccio tornare una ragazzina. Davvero? E le dico di più. Ma davvero? Io le faccio fare anche l'amore. Oh, allora più che altro ce mi hanno il mio marito. E ce lo mandi. Senta, disturbi apatici? No. Digestivi? No. Bronchiti? No. Polmoniti? No. Disturbi alla vista? C'ho avuto tre infarti, dottore. Quanti? Tre. Ah. Ma mi farà male sta cura. Eh? Eh, quanti infarti mi ha detto che c'ha avuto? Tre. No. Ah, no. Devo fare il 18 a Catania la sonnambula. Mi guardi. Posso presentarmi così? Forse con una bella barba potrebbe fare il fast-up. Dottore, cosa ne pensa se io, come la Callas, ingerissi un verme solitario? Ah, che schifo. E poi per lei ci vorrebbe un cobra. Lei è un pugile e vuole calare di peso, vero? Sì, perché io, dove c'è tu stumato, si è a fare un combattimento accessionato. Pagano gli italiani di Medi Junior. Io sono gli otto con un giussetto, soppuposo di forma. Se tu riuscissi a farmi portare un altro, soppuposo, ma io ti ringrazio pubblicamente in televisione. Se no... Sì, se no non paga tanto, sta nel contratto. No, io non è che non peschi. Ti metto a tutte queste cose che stanno qua, capito? Sono state chiare? Eh? Sono state chiare? Eh, sì, sì. E' meglio per se, va, che si campi di chiù. Vede, dottore, io e mio marito siamo molto innamorati, però non riusciamo a fare l'amore secondo i canoni. Sia più esplicita, signora, non capisco. Ecco, volevamo dire che per via della pancia lo dobbiamo fare seduti tutti e due. Ma chi fa la sedia? Beh, un giorno l'uno e un giorno l'altro. Eh, sì, a turno, dottore. Noi il vostro problema lo risolviamo sicuramente. Comunque, questa è una clinica, non una falegnameria. Beh, ma è chiaro. E chi l'ha detto? Prego, si accomodi. Tamburini molto lieto. Prego. Le suonali, sì, per favore. Grazie. Molto gentile. Bellissime. Stupende. Azotemia magnifica. Glicemia eccezionale. Colesterolo delicatissimo. Tre gliceri di fantastici. Urine meravigliose. Complimenti. Grazie. Prego. Una psicologa, nostra amica, ci ha detto che potrebbe dipendere da carenze affettive. Ma è matta, dottore. Non c'è bambino più amato di lui. Viviamo per lui. La verità è che Paolone è solo goloso e disubbidiente. È la prima volta che ci separiamo da lui e siamo tanto addolorati. Sia severo, dottore. Severo. Ma io come faccio a dimagrire quando questo qui ardi il pago doppio di me? Guardate che pappagorgia che ha. Come ti permetti, Paolone? Paolone, non essere maleducato. Ti farò dimagrire. A calci del culo. Prego. Io dirigo l'ufficio vaticano per l'aiuto alimentare al terzo mondo affamato, come lei ben sa. Certo. Personalmente mi faccio carico di portare giù da loro delle terrate di grano, mais, zucchero, farina. Insomma, tutto quello che si può. Ma sono tanti, se non basta mai niente. E che non lo so. Poi dovrebbe vedere quei negrettini, così esilini. Con quegli occhioni così languidi. Ti guardano, ti guardano. Guardano, come a dirti, ma padre, padre... Te bagni tutto te? Eh... In grosso modo. Ed è per questo che sono qui da voi e mi metto nelle vostre mani. Fatto benissimo. Oddio! Oddio, si va, andiamo a darlo. Sbrigati. Oddio mio. Monsignore, monsignore. Se la fa da solo chiamiamolacci. Non farlo spiritoso, dai, cavolo. No, no, qui sono le sedie che non vanno. Tutto l'arredamento che non va. Sì, allora la prossima volta ti fai un mutuo e ti paghi l'arredamento da solo. Forza! Deve fare... Piano, piano, piano. Ci vento armato. Piano, piano, monsignore. Il femore apposto. Dalla breta. La scapola. L'ansaldo. Lo so sacro pure. Allora, davvero. Lega di carbonico. Cresimi, cresimi. Forza.